No, non parla mai... No, espulso due volte per lo stesso motivo. Anche perché prenderà due o tre. No, ma il giornale è il giornale. Noi ci mettiamo al manco del giocatore. Poi il giocatore di quel tipo che mi costa un bel. L'ho transgiornato mentre stupendo non mi sono più protetto. Sì, sì, è vero, è vero. È vero. È vero. Anche perché c'è un danno alla società. È una testa calda. Ehi! Buon Natale! Buon Natale!